Vi esorto fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Pace a voi. Papa Francesco ha desiderato che questa domenica fosse dedicata alla parola, alla parola di Dio. Non c'è incontro ecclesiale che non è convocato, tenuto insieme, illuminato dalla parola di Dio. Dedicare una domenica alla parola di Dio in modo speciale è un ulteriore stimolo a prendere coscienza della necessità di ascoltare la parola, perché la fede nasce dall'ascolto, la fede matura per l'ascolto, la fede diventa operativa nell'amore grazie al fruttuoso ascolto della parola. È l'ascolto che viene nella potenza, nella luce, nella forza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo opera nella Chiesa, nel corpo ecclesiale. Dunque è necessario un ascolto continuo, un ascolto nella Chiesa per essere un ascolto nello Spirito Santo. E in questa domenica Gesù incomincia a parlare. Arrestato Giovanni inizia la sua predicazione e inizia con un grido, ma che potremmo dire è anche un saluto, è anche una presentazione. Il regno dei Cieri è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Inizia la sua predicazione, si vede già l'efficacia della sua parola, ma questa parola presenta subito il movimento di Dio che viene a noi, il regno che si avvicina. È il movimento che è richiesto a noi per andare verso Dio, la conversione per poter radicare la vita del Vangelo. Già la conversione è risposta all'annunzio, già la conversione è camminata, di fede. Ma poi, ecco, questo cambiare per andare verso di Lui deve diventare un radicamento. Convertitevi, dunque rispondete alla parola cambiando direzione, venendo verso di me, andando verso il regno, entrando nel regno. Ma poi è necessario vivere la fede come radicamento. Credete nel Vangelo. Radicate la vostra vita nella parola di Dio. Radicate la vostra vita nella persona di Gesù Cristo, che è parola del Padre, ma è il figlio del Padre, che è rivelazione del Padre, ma è anche salvezza da parte del Padre. In questa prospettiva di Cristo, parola che salva, ecco, possiamo capire anche l'allarme che Paolo dà alla comunità di Corinto. Com'è possibile che i credenti in Cristo vivano divisi? Come è possibile fare della parola motivo di divisione? Fare del Vangelo occasione per creare partiti, fazioni? Siamo anche nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e noi sappiamo che la revisione purtroppo è fatta a partire dalla parola. La Chiesa cattolica ascolta la parola, le Chiese protestanti ascoltano la parola, le Chiese ortodossa ascoltano la parola e siamo divisi. Come è possibile? E allora Paolo incomincia la sua esortazione, allora e a noi oggi, dicendo vi esorto, fratelli, per il nome del Signor nostro, Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare. L'Apostolo ci fa fare un passo avanti. L'unanimità non può esserci e non basta solo l'ascolto. L'unanimità si raggiunge ascoltando insieme e parlando la stessa lingua. Ed è questo secondo passaggio che è mancato e manca nella vita della Chiesa. Ascoltiamo la stessa parola e poi formuliamo la nostra fede in maniera differente. È un rischio. È un rischio che oggi si cura ancora di più. Perché oggi anche all'interno delle confessioni religiose si ascolta come comunità e poi si parla troppo per individualità. e quindi all'interno della stessa confessione parliamo in maniera diversa. Comprendiamo e raccontiamo la fede in maniera diversa. Ed è quella diversità che divide, non quella diversità che arricchisce. Perché le formulazioni che arricchiscono non sono quelle in cui ognuno mette al centro il proprio io, il proprio pensiero, il proprio punto di vista. Perché non vi siano divisioni tra voi. lo spiega dicendo ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Ora dobbiamo riempire questi due termini pensiero e sentire perché ognuno di noi pensa di elaborare qualcosa di giusto. ognuno di noi ritiene di aver raggiunto una sapienza del cuore. E come mai questo pensiero che elaboriamo, questa sapienza del cuore, poi ci divide? Invece noi siamo chiamati all'ascolto, all'elaborazione del pensiero e della sapienza e a raggiungere la perfetta unione. Non siamo chiamati ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare personalmente e ognuno prende la sua strada. Dall'ascolto la fede e l'unità della comunità, l'unità della Chiesa. Quindi questa giornata della parola ci deve aiutare anche a capire come la parola deve condurci all'unità. Non come la parola può mettere in risalto le diversità e poi dalle diversità passare alla divisione. che mettiamo nel termine pensiero? Che mettiamo nel termine sentire? Mettiamo i nostri punti di vista? Le nostre sensibilità? No. Questo ognuno di pensieri di sentire è possibile se ricordiamo due espressioni di Paolo. Abbiate il pensiero di Cristo Gesù. Lo dice proprio nella prima lettera dei Corinti. E poi, nella lettera dei Filippesi, abbiate gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Allora, per avere perfetta unione di pensiero non si tratta di sbizzarrirsi nell'elaborazione della dottrina o nell'elaborazione dei sentimenti cristiani. Si tratta di accogliere e costruirsi con il pensiero di Cristo. Si tratta di accogliere e ristrutturarsi affettivamente, sensibilmente con i sentimenti di Cristo. E se vogliamo mettere al centro del pensiero di Cristo, dobbiamo mettere al centro la fiducia nel Padre. Se vogliamo mettere al centro dei sentimenti di Cristo l'amore e la compassione per il prossimo. Se proprio vogliamo renderlo chiaro. Al centro del pensiero di Cristo c'è l'abbandono fiduciare nel Padre. Al centro dei sentimenti di Cristo c'è l'amore per l'umanità. Paolo specifica perché avvengono le divisioni. Non solo per un'elaborazione personale, ma anche perché si scelgono i leader. La parola è di Cristo, per cui non c'è né Apollo, né Cefa, né Paolo. Ma tutti dobbiamo convergere verso il Capo. Perché è il Capo che è stato crocifisso per noi. È nel nome di Cristo crocifisso che noi siamo stati battezzati. Paolo è convinto di essere stato mandato ad annunciare il Vangelo perché la parola di Cristo è il fondamento dell'unità e il battesimo fatto nel nome di Cristo è il battesimo dell'unità.